Frequentare una lezione e visitare la sede dell'Ateneo, respirando per un giorno la vita universitaria in vista di un'eventuale iscrizione. Ecco l'Open Day, giornata di porte aperte, organizzata dagli Atenei del territorio, che dopo un 2020 di presentazioni dell'offerta formativa via web, ora torna in presenza. Succede a Palazzo Reimondi, dove questa mattina il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, sede di Cremona, ha organizzato una serie di eventi per le potenziali matricole del nuovo anno accademico. L'Open Day non è altro che una istanza di accoglienza, accoglienza delle matricole, accoglienza degli studenti, un modo per far conoscere loro chi siamo, che cosa facciamo. È un Dipartimento dove si diventa amici ed è un Dipartimento amico nei confronti degli studenti. E quando si capisce questo, per esempio anche semplicemente studiando in biblioteca, diventa anche quella un'esperienza amica, per così dire. Gli scorsi anni il programma della giornata prevedeva la partecipazione a workshop ed esibizioni musicali diffuse. Stavolta considerata la complessa situazione sanitaria, si è optato per visite guidate, la scoperta delle sale affrescate e della collezione di strumenti musicali, oltre a lezioni aperte su vari temi. Per noi è un momento di assoluta gioia perché finalmente abbiamo l'occasione di ritrovarci un po' tutti insieme dopo un lungo periodo di attività miste tra presenza e distanza e soprattutto è l'occasione per accogliere gli studenti iscritti e i futuri iscritti perché riteniamo che sia molto importante un contatto diretto non solo tra di noi ma anche con loro. È prevista inoltre un appendice, l'Open Night, questa sera alle ore 21 con ingresso libero, che proporrà il concerto del coro della Facoltà di Musicologia diretto dal maestro Cestino sulle note dell'incisione discografica Mater Alma, a seguire un dibattito sulle serie televisive.